Pubblicato l'avviso pubblico regionale destinato a risarcire i danni ai floricoltori pugliesi colpiti dalle rigide misure di contenimento del Covid-19. L'intervento è destinato a quanti, nei mesi di lockdown, hanno subito il blocco completo dei mercati e sono stati costretti ad interrare i fiori rimasti invenduti. La dotazione finanziaria complessiva è di 2 milioni di euro, fa sapere il direttore del Dipartimento regionale Agricoltura Gianluca Nardone. L'avviso ha l'obiettivo di dare un'iniezione di liquidità ad imprese che non hanno potuto commercializzare il proprio prodotto nel periodo più critico dell'emergenza sanitaria. Le aziende potranno fare richiesta esclusivamente utilizzando il modello editabile disponibile sul sito regionale filiereagroalimentari.regione.puglia.it attraverso l'applicativo Floroviva 2020 predisposto dalla sezione Competitività delle filiere agroalimentari unitamente al manuale con le istruzioni operative da seguire.